Eccoci qui come è stato, un saluto a tutti e ben ritrovati, invito come sempre a commentare a numerosi e lasciare un bel like e iscrivervi da questa parte. Andiamo a gonfie e vele, arriviamo presto a 20.000 iscritti, grazie per chi si è già iscritto, grazie per chi lo farà nel corso di questo video. Parliamo di Milan, domani la partita contro la Roma, ma attenzione perché è in arrivo Gerry Cardinale. Sarà domani presente a San Siro, credo al fianco di Zlatan Ibrahimovic anche fisicamente, e arriva per due motivi. Quindi, lo stadio, perché nei prossimi giorni ci saranno novità importanti su San Donato, vediamo quanto importanti. E sapete che dallo stadio dipende il futuro del club e anche una cessione del club. E poi il tema panchina, con una situazione in continuo di venire, la decisione comunque è arrivata, e ci mancherebbe altro, di cambiare in estate. E l'idea di approfondire la questione, con Furlani, che è più favorevole all'ipotesi Tiago Motta, e meno all'ipotesi Conte, soprattutto per i costi. E Zlatan Ibrahimovic, che invece vuole Antonio Conte in panchina. Con cui, attenzione, mi dicono esserci già stati dei contatti. E anche più che esplorativi. La situazione dunque vivrà delle ore, dei giorni decisivi, perché ufficialmente il Bina prenderà la decisione in primavera, a marzo. Ma in realtà, a questo punto, il Bina è di fronte a un Bivio e inizierà a prendere una strada importante. Quindi, attenzione, capitolo stadio, ma soprattutto dossier allenatori, con un approfondimento che porterà, secondo me, a iniziare a percorrere dei passi in più, verso una o l'altra direzione. Con Conte, che è il grande nome di Zlatan Ibrahimovic. Ditemi che ne pensate, commentate numerosi qui sotto, lasciate un like, iscrivetevi da questa parte. Attivate anche la campanella, noi ci vediamo più tardi, mando un abbraccio a tutti, un buon weekend. E mi raccomando, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella. Grazie ancora e un saluto. Ciao!